Prosegue il suo impegno a favore della natura alla guida dell'ente, se dovesse stilare un bilancio di questi anni in cui è stato alla guida del parco, penso sarebbe senz'altro positivo, per il futuro lei aspica naturalmente continuità. Sono stati 5 anni importanti e significativi, difficili, oggettivamente difficili, però li abbiamo affrontati con il sostegno della gente, con il sostegno delle persone e credo che il parco abbia un grande futuro. Io lo trovo in due tracce fondamentali, la prima quello di un parco nazionale perché questo è l'unico parco fluviale della regione Liguria ma che comprende due regioni, 46 comuni e 4 province e quindi c'è la necessità di tenere insieme il bene supremo che è quello dell'acqua e quindi di un parco nazionale. Il secondo, un passo avanti verso il parco nazionale sarà il contratto di fiume, noi domani alle ore 16 farebbero un convegno telematico naturalmente via Webmark dove discuteremo insieme con i più importanti attori a livello nazionale, regionale e locale della possibilità di avviare un contratto di fiume per quello che riguarda il Magra. Abbiamo coinvolto la Toscana, la Liguria e credo che possa essere un primo passo importante. Fatto questo io credo di poter chiudere la mia esperienza come Presidente prima e Commissario dopo in termini positivi perché questo parco ha un grande futuro.